buongiorno amici ieri ho comprato questa rivista che si chiama pops a cui allegati c'erano dei gadget questa collanina con un anello e l'anello sta qui dentro la bustina e poi questi elastici che erano contenuti in questo tubetto allora questo tubetto è della panini e si chiama whoopie bracelet quindi braccialetto whoopie e diciamo aprendo diciamo questo pacchettino di cartoncino chiamo questo tubetto c'era dentro tutti questi elastici c'erano dentro tutti questi elastici che si possono combinare per realizzare dei braccialetti si può fare un braccialetto a nodo fashion varie tipologie di cui ci sono i tutorial per realizzarli penso che sia un'idea molto carina e molto fashion cioè dei braccialetti davvero chic sia da indossare per conto proprio che da regalare ad un'amica un amico sono stata contenta perché li ho trovati con i colori della bandiera italiana del tricolore mi piacciono molto in questo diciamo de plian piccolo potete vedere le tre tipologie di nodi che si possono realizzare con gli elastici per realizzare il braccialetto si può realizzare con nodo fashion con modo virtual e c'è il tipo puffi ma ne esistono tanti altri per esempio dietro il de plian mostra anche che si possono utilizzare in dopo averli intrecciati come elastico per i capelli come portachiavi come decorazione per la mano diciamo mi piace una buona idea bello veramente questo allegato insomma una rivista che mi è piaciuta molto oltretutto inquadrando il qr code potrete vedere i video tutorial step by step e saperne di più sul sito www.whoopee.net ragazzi a voi piacciono i whoopee bracelet della panini io la vi saluto e aspetto i vostri commenti sotto a questo video vi leggo ciao e buona domenica